Qual è il confine tra sana concorrenza tra stati con i suoi benefici e politiche predatorie che invece innescano una race to bottom? È una domanda estremamente complicata perché credo che sia equo dire che non esista una risposta in linea di principio. La risposta è fondamentalmente empirica, dipende dal contesto in cui si calano le politiche fiscali e dagli effetti che esse producono. In generale io tenderei a pensare che sono non predatorie, per usare questo termine, o non sleali politiche fiscali anche aggressive di mantenimento della pressione fiscale a livelli estremamente basse, quando queste avvengono in un contesto di pareggio di bilancio o quasi. Viceversa tenderei a considerare più aggressive le politiche fiscali quando invece queste avvengono in un contesto di forte indebitamento pubblico e quindi di disquilibrio di bilancio e quindi hanno una sorta di aspetto, anche se tecnicamente non è proprio così, ma hanno le caratteristiche di una specie di schema ponzi fiscale. Questo è un discorso generale. È parzialmente diversa la questione quando parliamo di politiche di concorrenza fiscale all'interno di un'area valutaria come è la zona euro, dove gli stati sono vincolati reciprocamente da una serie di obblighi che hanno assunto e derivano una serie di vantaggi dal fatto proprio di essere parte di questa stessa area valutaria, fiscale, doganale, eccetera. Tendenzialmente io credo che la soluzione individuata dall'Unione Europea sia una soluzione ragionevole, che ha sostanzialmente tre pilastri. Un pilastro è quello della libertà degli stati di organizzare come gli pare i rispettivi e i sistemi fiscali nel rispetto di alcune regole generali che riguardano fondamentalmente i saldi di bilancio e il livello del debito. Tu puoi tenere le tasse basse, ma devi avere la spesa bassa. E quindi, devo dire, da questo punto di vista, a me fa un po' ridere quelli che si lamentano del fatto che alcuni stati europei abbiano una bassa fiscalità avendo spesa bassa e pretendono che facciano altrimenti, sembra quasi chiedergli di mandare in pensione la gente a 50 anni per poter spendere un po' di più e alzare le tasse per fare un favore a noi. Quindi questo è il primo punto. Secondo punto è l'individuazione di alcuni modesti ma significativi elementi di armonizzazione, sia per quanto riguarda alcune aliquote o alcune tipologie di imposta, sia per quanto riguarda la definizione delle basi imponibili. Terzo elemento, che è quello per certi versi più importante, ed è quello oggi maggiormente sotto attacco, la disciplina degli aiuti di Stato. Cioè, tu puoi fare quello che ti pare, ma devi trattare all'interno del tuo territorio, tu devi trattare tutti allo stesso modo. Non puoi fare regali che siano regali in senso attivo, cioè trasferimenti di denaro verso specifiche imprese, verso specifici settori, e non puoi fare neanche regali del tipo sconti fiscali ad hoc, per cui crei un vantaggio competitivo per l'impresa X, la quale contemporaneamente però beneficia della libera circolazione dei servizi, dei beni, eccetera, sul territorio europeo e quindi può utilizzare questo vantaggio per fare concorrenza sleale alle altre imprese europee. Io credo che questi tre pilastri all'interno di un'area come l'Unione Europea siano necessari e sufficienti per garantire che la concorrenza fiscale sia sana, diciamo così. Grazie a tutti.